patriarcato le nostre testechine sugli specchi della nostra casa tutti c'era una patina di soggezione che impediva alle femmine di vedersi uguali ai maschi ci leggevamo negli occhi l'antica verità che la nostra famiglia numerosa era un orrido patriarcato commento i colpi dell'evoluzione al patriarcato sono le coltellate per le donne e il carcere esiguo per gli uomini la vera correzione della legge arriverà quando quegli uomini nasceranno come donne